Dopo i lavori di restauro riapre al pubblico Palazzo Guinigi, storica dimora della celebre famiglia lucchese, che ospiterà mostre permanenti e temporanee e punta a diventare una delle maggiori attrazioni turistiche in centro. Al taglio del nastro con il sindaco Mario Pardini era presente anche il governatore della Toscana, Eugenio Gianni. Il contributo della regione è stato rilevante per il recupero di gran parte dell'imponente struttura che conta 54 stanze complessive. Il recupero del palazzo è consistito diciamo nel completamento di alcune porzioni che erano rimaste completamente da restaurare, in particolare il piano terra, il piano interrato, il giardino e il piano primo. L'importo complessivo dell'opera è a monto a 1 milione 4,60 di cui 910 mila euro con i fondi FESR della regione toscana e gli altri dell'amministrazione comunale. Tra le novità più rilevanti c'è il recupero e l'apertura del giardino liberamente accessibile dal percorso pedonale di collegamento tra via guinigi e via delle chiavi d'oro. I lavori hanno riguardato anche il nuovo ingresso unificato di palazzo e torre guinigi che ospita la nuova biglietteria. Il vecchio ingresso della torre diventa invece l'uscita dove è stato allestito anche un piccolo negozio. Il tutto è gestito da metro SRL nel suo ramo d'azienda dedicato alla gestione turistica. Questo è sicuramente il momento più importante della gestione turistica della città con un accesso intorno a mille persone al giorno già adesso da questo ingresso. Quello nuovo che andiamo a inaugurare proprio ora sicuramente sarà la celebrazione massima di questa gestione turistica. Infine i lavori di restauro hanno permesso di riportare alla luce i resti di un importante fregio affrescato rinascimentale ritrovato nella sala sopra la loggia del giardino nella parte nord est del complesso.